un saluto a tutti voi siamo in consegna car tablet dedicato reno clio come vedete abbiamo varie possibilità di cambiare home ritorniamo a quella da default abbiamo visto prima gestione audio e video adesso passiamo alle impostazioni android questo è un processore sonoro passiamo allo split screen ricordiamo che è un top di gamma 6 gb di ram rom 128 gb apple carplay android auto dsp slot sim potete scaricare waze tv digitale come preferite voi gestione radio stazioni recupero comando volante o stazioni in memoria come vedete sempre da qui abbiamo eseguito anche la retrocamera tutti i nostri prodotti sono disponibili per essere il nostro shop un saluto a tutti voi e buon weekend ciao